Allora, questo pezzo è una canzone che sembra che parli di una fidanzata pannosa, di quello che ti rompe sempre con il mio amore, che dice, eh no, ma quello, però, te c'hai sempre del centro di istinto e lei te la mia, no, però, ragioni, in realtà non è una fidanzata, è la mia mente, è la vostra mente, è quello che noi abbiamo imparato a fare da piccoli, perché questo ci faceva sopravvivere, abbiamo imparato le cose dei nostri genitori, ma sono cose che certe volte non ci appartengono, che però ci stanno addosso e ci impediscono di essere come noi vogliamo essere, quindi questa canzone è un dialogo con la mia mente, che certe volte è troppo avidamente, questo è il titolo del pezzo, lo mi dà trego. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. grazie 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 a tutti.